La nave di soccorso per migranti, la CI4 dell'omonima organizzazione tedesca, ha lasciato i cantieri di Rostock per dirigersi in Spagna, da dove riprenderà le sue attività nel Mediterraneo. L'arrivo della nave, che batterà bandiera tedesca, è previsto per fine aprile nei porti iberici, da dove partirà per le sue missioni di soccorso. Questa nave sarà in grado di curare anche persone affette da Covid e uno scafo del 72 ricostruito con un lavoro di sei mesi da circa 250 volontari, raggruppati nell'iniziativa United for Rescue, che comprende partner tra cui MSF, la sinistra radicale tedesca di Linke ed è stato in gran parte finanziato dalla chiesa protestante tedesca. Questo nei giorni in cui Matteo Salvini è stato rinviato a giudizio per il caso Open Arms per rifiuto dati d'ufficio e sequestro di persona, rischia una pena fino a 15 anni.